ovviamente siamo pronti per questo rush finale come ogni competizione la fase finale è quella che amo di più è quella in cui si vince o si perde in questo momento sta provando a cercare anche dall'altra parte della porta trova l'avversario grande chi su scatto per lui noi siamo pronti a vincere e vogliamo vincere tutte le ultime partite rimaste della regular season per prepararci al meglio per i playoff c4 da sotto Hunter poi Keenan su Hunter un blu su blu attenzione primo di kill nel primo round a terra però Gemini in questo momento arriva anche il c4 dal basso arriva tutto un cadavro in Gemini attenzione a Sasha intanto che copre il portale di Fuser arriva in Toto Kino con questa squadra come maker stiamo lavorando al meglio per ottenere gli ultimi risultati convincenti in vista dei playoff eventuali finali magari a diminuire gli altri ma è un gap comunque in più rispetto agli altri che questo sembra anche abbastanza valese occhio perché qui porta il The Future a terra Toto comunque sa che sul freddo questo è un'ottima goal per i ragazzi dei makers nonostante i Samsung stiano rivelando un buonissimo team siamo convinti che se riusciamo ad attuare il nostro gioco nessuno ci potrà fermare non è qua sulla posizione di Nemesis perché dovrebbe trovarsi molto vicino a Torok che prende la quadrupla non vuole andare a prendersi direttamente di chi la entra nel side in sette secondi lo aspetta Torok al barco vediamo se arriverà l'Est il capitano e arriva forse no per poco si c'era WE all' bulbino in US! 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 ange